Etienne Emanuele Veteux, sacerdote, appartiene alla comunità Chemin Neuf e dirige il centro Cardinal Bea per gli studi giudaici. Bea chi era costui? Cardinal Bea era una delle persone più marcanti del concilio Vaticano II di quest'epoca. Era un gesuita tedesco, rettore del Pontificio Instituto Biblico, dunque un studioso della Bibbia, e a chi Papa Giovanni XXIII ha affidato i rapporti con le altre confessioni cristiane e con gli ebrei. Durante il concilio, la preparazione del concilio, avere delle idee, sapere che cosa loro anche aspettavano, e loro davano alcuni suggerimenti, e Bea trasmetteva questi suggerimenti. Quindi è stato un po' un pioniere di un'apertura che è arrivata dopo secoli e secoli di separazione e di persecuzioni, cioè la Chiesa considera oggi speciale il popolo ebraico, ma fino a 50 anni fa pregava per la sua conversione. Certo, possiamo dire che c'è stato in 50 anni una vera svolta, una profonda evoluzione, non vorrei dire rivoluzione, perché penso che fa parte dell'essenza della Chiesa, ma una nuova comprensione di che cosa è per la Chiesa il popolo di Israele. Però padre, padre, c'è di mezzo Cristo, gli ebrei non lo riconoscono. Allora, noi capiamo sempre di più a che punto Cristo era ebreo. Si sa più o meno, Cristo è ebreo, si dice, però proviamo a immaginare. Cristo nella sua vita quotidiana, adesso gli esegeti sono d'accordo su questo, Cristo mangiava kosher. Cristo osservava il sabato. Andava in sinagoga. Andava in sinagoga, andava al tempio dove erano i sacrifici, dunque faceva parte del suo modo di essere in relazione con Dio. Gesù insegnava come gli altri maestri, non faceva altra cosa. Ci sono due cose nuove. Amare il nemico. Finora nell'ebraismo c'era non odiare il nemico. Gesù dice amate i nemici e poi i primi nel regno saranno i peccatori e le prostitute. Ma per tutto il resto insegnava come tanti altri maestri. E rimandava sempre a Mosè. E commentava il Tadach, cioè la Bibbia ebraica, commentava i detti, l'insegnamento di Mosè. L'unica cosa nuova, o profondamente nuova, è che lui c'era. Cioè era lui, la stessa persona, la sua persona. Cioè il Messia era aspettato e adesso il Messia c'è. E questo è stato il punto di difficoltà. È lui o non è lui? E poi il fatto che i cristiani dopo, che erano tutti ebrei all'inizio, fino alla metà del secondo secolo, anche questo è qualcosa che non sapevamo così chiaramente finora, fino alla metà del secondo secolo la maggioranza dei cristiani erano ebrei. Ebrei che credevano anche in Gesù, Yeshua, come il Messia. In realtà nel primo secolo prima di Cristo e nel primo secolo, cioè della vita di Cristo, un grande corrente dell'ebraismo aspettava un Messia divino. Questa è una cosa che è impressionante sapere adesso, perché è stato tralasciato, coperto, e dai ebrei, e dai cristiani, per dire siamo diversi. Ma in realtà c'era una intesa comune molto forte all'epoca. Com'è possibile che i cristiani non sentano la totale fratellanza con gli ebrei anche solo per le sofferenze che hanno dovuto subire lungo tutto il corso della storia? E non mi riferisco solo alla storia del Cente, ma anche alla storia prima della venuta di Cristo. È come se fossero il popolo scelto come sacrificio da Dio, che è il nostro stesso Dio. Cioè non è possibile non sentirsi uniti, no? È una buonissima domanda. È vero che è molto difficile per un cristiano dire c'è una dimensione di sofferenza che proviene del fatto che è un popolo messianico, perché una grande parte di questa sofferenza è stata prodotta direttamente o indirettamente dalla Chiesa o dai cristiani. Però è vero che fondamentalmente una delle ragioni per le quali il popolo ebreo ha sofferto era perché era il popolo eletto, il popolo scelto da Dio. E il cardinale Jean-Marie Lustiger, che era lui stesso di famiglia ebrea, arcivescovo di Parigi negli anni 80-90, diceva l'antisemitismo è il rifiuto della scelta di Dio. Cioè è un altro modo di dire la sofferenza subita dal popolo ebraico è un rifiuto, cioè come ogni forma di razzismo è un rifiuto di Dio, cioè qualcosa di profondamente immorale, però lì molto più precisamente rifiutiamo chi è stato scelto da Dio per rappresentarlo, per farlo conoscere, e dunque è un rifiuto di Dio. Il cardinale Lustiger è stato un ottimo amico di Giovanni Paolo II e sotto il suo pontificato c'è stato davvero un cambiamento di mentalità nei confronti degli ebrei. Penso che le due persone che nella Chiesa Cattolica hanno fatto i passi più grandi, almeno a livello della gerarchia, per una nuova comprensione del popolo ebraico sono Karina Albea, di cui abbiamo parlato, e effettivamente Papa Giovanni Paolo II. E non so esattamente perché, probabilmente perché aveva amici ebrei quando era piccolo in Polonia, anche il contatto con il cardinale Lustiger, ma Giovanni Paolo II ha detto almeno due cose essenziali per il nostro rapporto con gli ebrei. La prima cosa è che l'antica alleanza non è mai stata cancellata. Abbiamo durante secoli detto, non dico insegnato ufficialmente, ma si diceva nella Chiesa che la Chiesa aveva preso il posto del popolo ebraico e che la nuova alleanza aveva preso il posto dell'antica alleanza. Giovanni Paolo II dice No, Dio è fedele, Dio non revoca mai le sue promesse, i suoi doni, lo dice Paolo in Romani XI, l'antica alleanza non è mai stata revocata. Il popolo ebraico ha ancora un posto oggi. E l'altra dimensione che è centrale nell'insegnamento di Giovanni Paolo II diceva Noi con gli ebrei non siamo in un rapporto come con le altre religioni. Non possiamo parlare di dialogo interreligioso con gli ebrei, parliamo di dialogo interfamiliale. Siamo la stessa famiglia, la famiglia di Abramo. Lei parla con un accento marcatamente francese, però in realtà è nato in Wisconsin, da mamma francese, da papà ungherese, ha girato per mezza Europa, ha lavorato in Vaticano. Perché tutto questo interesse, questa passione nella ricerca di un'unità con il popolo ebraico? Per quale motivo? Da cosa nasce? C'è un'esperienza personale e poi c'è una convinzione teologica. Esperienza personale. Appena ho ordinato sacerdote, dunque il 20 settembre 1997, il giorno dopo sono andato per la prima volta in Israele per aiutare, guidare un gruppo. E immaginavo che in questa terra santa, terra di Gesù, i momenti più forti sarebbero stati il Santo Sepolcro o Betleemme o la Galilea, i luoghi dove è passato Gesù. È vero che erano momenti fantastici, però in realtà, alla mia grande sorpresa, il momento più forte è stato al Kotel, dunque al muro del pianto, dove gli ebrei pregano regolarmente, appoggiati sul muro. Mi sono appoggiato e ho sentito che era la nostra casa, eravamo a casa. Allora, in quanto non ebrei siamo a casa, invitati e adottati, ma siamo a casa. E sul monte del tempio, che era molto più facile di accesso in questo periodo, ho avuto l'impressione, la certezza della presenza di Dio in un modo unico e ho l'impressione che a Gerusalemme c'è una presenza unica di Dio. e guardando verso la Porta Dorata, che è una delle porte, delle murali di Gerusalemme, gli ebrei dicono che il Messia vera da questa porta. Ho avuto di nuovo una condizione mia, che il Messia, cioè Gesù, per me il Messia è Gesù, tornerà da questa parte e che insieme, gli ebrei, i cristiani, saremo davanti alla porta ad aspettarlo. Gli ebrei aspetteranno il Messia, noi aspetteremo il Messia e pensiamo che verrà per la seconda volta, ma aspettiamo la stessa persona davanti alla stessa porta, insieme. Sarebbe bellissimo esserci in quel momento. Sarebbe bellissimo, però bisogna lavorare per arrivare a questo momento. Ecco, il lavoro, a parte del dialogo, insomma, questa parola dialogo è spesso abusata, perché poi si traduce spesso in convegni, in assemblee, in incontri. Si può pregare per questo? Si potrebbe anche pregare insieme per questo? Allora, penso che è impossibile non pregare, cioè, non si farà senza preghiera, non è un'opera umana. Una delle ferite più grandi dell'umanità è il fatto che la Chiesa, che dovrebbe essere segno di amore, è divisa e che il popolo di Dio, e lì includo il popolo di Dio originale, delle origini, il popolo ebraico, il popolo di Dio è diviso fra ebrei e cristiani. Questa è la divisione la più profonda, la più fondamentale e tutte, vado velocemente, tutte le guerre, tutti i discordi, tutte le lotte provengano dal fatto, o almeno non sono fermate, perché la Chiesa e il popolo di Dio sono divisi. E dunque è fondamentale, io penso che dobbiamo tutti buttarci in questa direzione e alcuni, il fatto, il caso per la mia comunità, abbiamo questo come carisma specifico, però non è un'opera umana, è impossibile da fare dal punto di vista umano, dunque ha ragione, dobbiamo pregare per questo. Lei si riferisce alla comunità Shemem Neuf che è una comunità ecumenica, ma quando parliamo di ecumenismo non ci riferiamo agli ebrei, no? È vero che precisamente parlando ecumenismo significa l'unità tra i cristiani perché pensiamo che è possibile arrivare a una unità. Come l'ho detto prima, invece con i ebrei non è neanche dialogo interreligioso e un'altra cosa. Non ci sono però ebrei nel vostro movimento, associazione, come lo chiamate? No, in Shemem Neuf non ci sono ebrei. Il nostro punto comune è che crediamo in Cristo come figlio di Dio salvatore. E ci sono religiosi, religiose e famiglie. Sì. Anzi, in particolare lei si è occupato e si occupa immagino ancora di seguire le coppie e le famiglie. Oggi si può ancora puntare sulla coppia, cioè sull'unione del maschile e del femminile per costituire una famiglia? Direi che il fatto di vivere in una comunità mista, come hai detto, siamo quasi metà a metà uomini e donne consacrati e poi c'è una maggioranza di coppie. Dunque siamo più o meno metà a metà uomini e donne. Io vedo la ricchezza incredibile del fatto di vivere insieme maschi e femmine e il fatto che non ho nessun dubbio tra questa vita comunitaria che c'è una differenza molto molto profonda tra l'essere maschile e l'essere donna femminile e una ricchezza voluta da Dio nella Genesi Dio ci ha creato uomini e maschio e femmina e l'unica differenza che è citata all'inizio nella Genesi come se fosse la differenza fondamentale. Oggi vengono sempre più negati ideologicamente le differenze di genere e la rivendicazione di presunti diritti in realtà a mio parere omologa e appiattisce è una fissazione dei cattolici o è un'esigenza dell'uomo la famiglia? Penso che è un'esigenza profonda dell'uomo quando vediamo anche nella società attuale in Italia in Francia delle società molto secolarizzate quando chiediamo il valore che è attribuito a diverse realtà il matrimonio ha sempre un valore molto molto alto e la famiglia anche un valore molto non significa che riusciamo a viverlo non significa che la gente prende le decisioni che devono prendere ma a livello del sogno c'è questa dimensione ma è vero che al cuore della vita di famiglia e di coppia c'è la difficoltà ad amare e la difficoltà a vivere con una persona diversa un individuo diverso un maschio una femmine un bambino che sono diversi e dunque il tesoro in questo senso della chiesa è di proporre la possibilità della riconciliazione cioè il riconciliarsi è un tesoro è molto semplice da un lato è molto semplice perché basta dire mi dispiace ti perdono da un altro lato è così difficile perché non abbiamo voglia di ammettere che siamo stati feriti non abbiamo voglia di ammettere che abbiamo sbagliato ma uno può anche dire che ti perdono il peggio è continuare a vivere insieme dopo questa è la difficoltà più grande cioè un perdono che si prostrae giorno dopo giorno nel tempo e questo è il perdono perché se tu cambi o io cambio non è perdono è cambiamento ma perdono e questa è la forza che ci dà Cristo anche non penso che il perdono sia unicamente cristiano però è vero veramente una forza che ci dà Cristo e in queste per esempio mi ha parlato dell'attività preso le coppie che che svolgo che svolgiamo e una delle specializzazioni o carismi uno dei carismi della comunità Schumano è di proporre sessioni per le coppie si chiama Canna come il matrimonio Canna in Galilea e è una cosa fantastica soprattutto per un celibe per un consacrato che guarda come due persone vivono tante difficoltà talvolta all'inizio è il mistero di dire ma com'è possibile essere una coppia penso che da un certo dato è molto più facile essere un celibe lo è ancora di più quando ci sono bambini e che cioè io non mi alzo mai alle due della mattina per un bambino talvolta per qualcuno che sta morendo ma è più raro invece per un genitore dunque c'è questo mistero dell'esigenza della difficoltà e nello stesso tempo il mistero del fatto che una coppia che costruisce una vita insieme e che mette la riconciliazione al centro e le sessioni Canna sono questo danno la possibilità alle coppie di essere insieme aver tempo insieme spesso sono solo con i bambini fanno tante altre cose dunque cinque giorni insieme cambia molto e riconciliarsi Padre Vittorio il papà era ungherese abbiamo detto è fuggito dall'Ungheria dalla dittatura sovietica dopo il 56 c'è ancora il peso delle ideologie che hanno distrutto ferito il 900 o ce ne siamo liberati o non ancora? il serpente non so se si dice così in italiano ma il serpente è sempre presente può alzare la testa cioè sì il totalitarismo è un rischio profondo il fascismo in senso largo nazismo fascismo comunismo è un rischio profondo dell'umanità cioè prendere il controllo di altri e rifiutare l'altro come diverso può avere anche base religiosa il totalitarismo certo il regime dell'apartheid per esempio che non è era anche un totalitarismo ma con questo aggiunto si fondava spesso su alcuni tratti biblici che rifiutavano gli altri popoli dunque lì c'è sempre la possibilità di utilizzare la religione non so penso che la storia di mio padre che dunque lui a vent'anni aveva vent'anni in 1956 quando i russi sono c'era la contrarivoluzione contro il comunismo i russi sono entrati mio padre ha fatto parte di un piccolo gruppetto con amici che hanno lottato contro questo arrivo dei russi e il fatto che volevano instaurare in modo ancora più forte il comunismo poi un giorno è andato a vedere i genitori tornato a Sega dove studiava tutti gli altri erano stati presi dalla polizia e dunque ha deciso devo scappare si è scritto una lettera in francese da una falsa fino a questo momento una falsa fidanzata francese e ha passato le frontiere la Jugoslavia poi e finalmente è arrivato in Francia e lì la fidanzata l'ha trovata davvero? e ha trovata la fidanzata suo papà si è convertito mi ha detto al cristianesimo perché non era credente leggendo i padri della chiesa lei ha due genitori intellettuali ma anche lei da piccolino andava in punizione perché leggeva troppi libri non succede mai ai bambini lei non dovrebbe saperlo e leggeva anche libri sacri da piccolo piccolo di nascosto perché leggeva troppo e papà e mamma sgridavano allora leggevo tutto leggevo assolutamente tutto effettivamente non so come l'ha saputo ma quando ho imparato a leggere mi ha appassionato e dunque ho avuto il diritto speciale alla biblioteca del nostro villaggio era nei Stati Uniti di prendere non solo tre libri a settimana ma 15 15 e leggevo e leggevo e leggevo e i genitori mi avevano vietato di alzarmi prima delle sei della mattina per leggere e ero obbediente dunque mi ricordo ancora c'era l'orologio qui accanto al mio letto e lo guardavo guardavo e quando arrivava alle sei accendevo le luci eppure mi sembra una persona normale tutto sommato senza penso che questo è piuttosto l'amore dei genitori che è la loro dimensione intellettuale che mi ha reso speriamo normale ma c'erano tutti e due ma i libri sacri piuttosto più tardi ero sempre interessato a Dio alle domande di fondo mi ricordo che camminavo con mio padre quando avevo sei anni e chiedevo sei sette anni chiedevo a mio padre ma perché Dio è invisibile e di solito un padre in questo caso risponde non lo so è un mistero mio padre invece che era professore di filosofia mi spiegava la differenza fra materia e spirito e diversi modi di essere della realtà si capisce un bambino capisce un bambino ha tutte queste domande sono gli adulti che le perdono i bambini sono i veri filosofi e dunque lui mi raccontava tutto questo dunque la dimensione intellettuale effettivamente c'era ma la dimensione sacra pregavamo in famiglia ogni sera e quando avevo dodici anni ho ho deciso che ero troppo maturo troppo grande per questo tipo di attività non con la famiglia dunque ho detto io non prego mai non prego più con voi mi hanno molto intelligentemente lasciato fare mi hanno detto bene questa è la tua scelta la relazione con Dio nessuno può imporla dunque ma noi continuiamo e sentivo della mia camera gli altri che pregavano mi sono detto che cosa faccio io da solo nella mia camera dunque ho preso avevo un piccolo nuovo testamento sono messo a leggere il nuovo testamento e alla fine era provvidenziale fare così perché ciò che è successo è che tutti questi altri libri che leggevo per esempio Gandhi o eroi che erano inventati mi commuovevano molto però quando chiudevo il libro era finito invece questa persona Gesù quando leggevo il nuovo testamento mi commuoveva ma quando chiudevo il libro era lì era accanto a me cioè sentivo la sua presenza e questo è stato probabilmente lo scatto più importante al livello della fede lei è stato educato da piccolino a tirar fuori le domande fondamentali dell'uomo io credo che oggi la chiesa dovrebbe ripartire da lì dalla filosofia sono completamente d'accordo l'unica difficoltà e penso che è proprio per questo che non ce la facciamo è che noi sappiamo che ci sono delle domande e dunque rispondiamo come ha detto lei ma quando non c'è la domanda dall'altra parte la risposta non serve a nulla quasi fa paura e la difficoltà è che dobbiamo suscitare la domanda e capire perché non c'è questa domanda e penso che a un livello un po' superficiale c'è il fatto del materialismo di diverse cose che fanno che abbiamo altre preoccupazioni ma più profondamente c'è la paura della domanda abbiamo paura e dunque mi sembra forse sbaglio ma mi sembra che c'è una via indiretta per arrivare alla domanda di senso perché dire semplicemente c'è un senso qual è il senso della tua vita fa paura e poi quando noi rispondiamo fa ancora più paura perché abbiamo la verità certo può darsi che la bellezza sia un'altra via per che non fa paura la bellezza non fa paura la bellezza attrae la bellezza apre l'animo e qua in questo momento le domande possono uscire quando abbiamo visto la bellezza violata penso a Notre Dame in fiamme c'è stato un movimento di popolo che non avremmo aspettato proprio in quella Francia che è diventata oggi un segno di contraddizione perché è un paese posso dire la sua Francia visto almeno sono anche francese almeno per la lingua dove i cattolici sono una specie protetta dove gli ebrei sono invitati a non mettersi la kippah e spesso fuggono e tornano cercando altre patrie cioè la Francia cattolica dei Moriac Bernanotte Guy Claudel Congar non c'è più però davanti alla bellezza violata è riscattata un'identità assolutamente per me ciò che è successo con Notre Dame il fuoco a Notre Dame proprio nella settimana santa era molto simbolico da un lato fuoco la chiesa o la religione è in pericolo da un altro lato non è stata distrutta Notre Dame può essere ricostruita e poi la reazione era un momento di unità nazionale che toccava e la Francia e la cultura e la religione allora il problema è che la difficoltà è molto profonda è da due secoli almeno in Francia noi siamo molto in anticipo su altri nella secolarizzazione da un certo lato permette anche alla chiesa di reagire sono così presuntuosi i francesi che arrivano sempre prima su tutti tutti lo dicono i francesi pensano sempre di essere i primi migliori il mio lato francese spero che non esce troppo è uscito in questo momento ma è vero che trovo che la chiesa francese perché ha avuto più tempo per abituarsi a questo tipo di fenomeno che non è il caso per esempio in Olanda o in Canada dove c'è stato o in Irlanda adesso il crollo del cristianesimo è molto più veloce e dunque è molto più terrificante in un certo senso la chiesa francese ha saputo gestire il rapporto con lo stato secolare accettare che ci siano due realtà e che bisogna rendere a Dio e rendere a Cesare e che questa è una cosa buona che è da Cristo e anche di inventare realtà nuova per esempio questa comunità Shemeneuve di cui faccio parte non è la soluzione per la chiesa ma penso che queste comunità sono un segno e molte sono nate in Francia perché il fiore del deserto quando c'è il deserto spirituale abbiamo bisogno di qualcosa e ciò che poi avete buoni maestri di non troppi anni fa a cui attingere per andare avanti mi regala una canzone una musica che le è cara? una musica cara? non sarà una canzone allora una sinfonia non so il più grande per me Bach Johann Sebastian Bach cosa? l'inizio della passione secondo San Matteo perché? queste voci insieme una cosa che non si può fare in altri luoghi artistici il tessuto si dice in italiano di voci così diverse che cantano realtà diverse o dei strumenti molto diversi perché all'inizio della passione è così strumenti apre il mistero di Dio grazie padre Vettel grazie mille grazie mille